oh ma posso donare dal vivo un euro, un euro dai, un euro sganciamo, facciamo diventare eeeh andiamo un euro potete non toccare le mie cose semplicemente, anzi se per favore venite di qua perchè non vi voglio lì Alexa, accendi sparafondo Alexa fammene un buchino grazie scusate ragazzi no ma non toccare non toccare, che buono no ragazzi adesso devo vedere la partita venite dopo ma è vero questo cos'è? ovviamente no vabbè non so vabbè non so no no ma se andate un po' fuori mi fate anche stare più tranquillo perchè siete troppi comunque oh no cioè così siete un po' troppo scatenati vieni a vederti Mattia che sta parlando di nuore con la guardia di nuovo vieni a che luce ma metti la porta vieni a me l'ultimo difensore vieni a fare un'operazione no ma che operazione dovete fare? che cazzo faccia? no ma non va bene ragazzi eh no dovete stare qua scusate no dovete stare qua no no vai fuori che mi banno vai fuori e non farti vedere no vedi non voglio che fai queste cose nella mia nel mio posto no no però vai fuori subito no subito vai fuori subito e non farti vedere questa roba siamo alla follia ma a parte Raffa non mi piace né sulle donne che cazzo sei tu? ok che non vien da bere siamo alla follia siamo alla follia siamo scusate mi ha buttato il ghiaccio ah sono quelli di prima cioè il bar sono quelli di prima almeno so che non li faccio filtrare eh gli faccio la denuncia segnerò un po' le cose fortunatente ci sono i video se fanno stronzate le donne e questi sono quelli di prima si sono quelli di prima sono quelli di la noccia quei porci amici amici col chezzo amici ma tu stai parlando con un tipo? si come si chiama? ma che chiezzo te ne frega? come si chiama? o come ti chiami? puoi andare fuori il cuore? si vede la mano però però perché prima fai il bravo adesso fu il cattivo? no ma sono io che non ti voglio non è lui che non ti voglio quant'è la partita Fro? a vai me l'ho insegnato prima però io faccio del mio meglio per ricordarmi allora tipo così Poi da qua devo fare così Poi faccio così Poi faccio il cuoricino E poi arco con la pezza Ah bello Perché faccio il parrucchiere e vuole fare un taglio No 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 ma c'è un problema in fondo Che non vi voglio Perché non ci siete comportati male No ma guarda che io sono quello di prima che è venuto No lo so lo so Che cazzo c'hai se non c'è una cosa Tu dici tu non c'hai ciocchi Guarda qui Quante persone ci sono No no ma non devi fare niente Capo C'è il capo zio che è il capo Non vi voglio Potete andare fuori Non mi siete piaciuti come vi siete comportati Grazie Ma anche io No non vi do la mano Perché cosa abbiamo fatto Lo sapete dove avete fatto Cosa abbiamo fatto Eh adesso da fare il muro Grazie Io No no Non lo sai Guarda questa live capisci che rispetto invece lo sto avendo molto No 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 io non vado a fare casino nei posti che non sono posti miei Lo so lo so I miei amici sono venuti anche se anch'io bevo ce l'ho qua in mano Vi ho levati perché è giusto non fare casino nei posti degli altri Mi dispiace ma il nostro gruppo non si è comportato bene C'è gente che viene io sono venuto una volta ti hanno versato la birra in testa e ero di fianco Ti hanno fatto il tutto Io non faccio casino Levo i miei amici Però se io vengo conosco anche lui Vabbè ma siete già stati basta Che cazzo sei tu? Però sai Parliamo un po' che cazzo sei te fra scena Non lo so vedi già questa cosa qua non mi piace Eh no però ad esempio fra loro parlano perché sono dei leoni di merda la tastiera Se li fai venire qua fra li riempiamo di ipotezi San Salvari davanti alla piazzetta venite vi spacchiamo il culo Vi spacchiamo il culo Vedi perché non vi voglio Perché questo è un rispetto Questo è un bel rispetto perché io le mie amici Tu che poi vengo qua e mi mandi chiama Non stai parlando con un computer? Ma no ho cacciato i ragazzi perché Ciao bene voi Siamo tutti in mananza Eschere poi Mi dissocio No ma però ragazzi non potete venire Ragazzi non potete venire qua Bella frate Eh no bella il cazzo No andate fuori Dai uscite dai Scusate Ciao ragazzi Scusate Ciao 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 C'è sta cosa qua che devo insultare così a caso subito Che è tutto due Siamo un po' la follia sia Senza ombre Esti gazzi Ormai si ti mua dato la donazione Esti gazzi No un po' Si può non fumare dentro il forest Eh infatti dai non si fuma dentro La donazione massima che ti ha fatto Non lo so c'è duecento non lo so Duecento SS due terzini bassi Alices Ok Alex due terzini bassi con due S Ma poi fu non fumare dentro però scusa No ma sono maschi non capisco Eh vabbè mica te l'ho detto tre volte cazzo Eh vabbè ma se mi fa schifo No quelle sei Allora per favore andate fuori Per favore andate fuori Per favore andate fuori Eh per favore andate fuori No ma non vi voglio ragazzi Allora tu hai detto che Tu hai detto delle cose che non mi son piaciute quindi puoi andare fuori Quanto? Cos'hai detto? Non mi interessa vai fuori Vai fuori Prima grandinato Allora ragazzi andate fuori o chiamo il mio amico portami fuori Non facciamo il cassino Io la bianca Eh potete andare fuori ragazzi Ma pensa le persone che mo ci vengono 10-0-24 No ma ragazzi dovete andare fuori Questi sono dei coglioni Questi sono dei calieri Dovete andare fuori ragazzi Che chiedono la sicurezza A me non mi vanno ridere Chiedono la sicurezza ma non sanno che noi la conosciamo la sicurezza Questi coglioni Eh il cielo Grazie I voi genitori hanno anche figli normali? Eh potete andare Ma batte Raffan Vai Decido io che sta qua Che cosa andate a fare il culo? No non vi voglio Il vostro gruppo non lo voglio Non lo voglio Tornate un'altra volta e non fate quello Allora andate via Tornate un'altra volta senza fare quello che avete fatto oggi Cos'abbiamo fatto? Andate fuori Ti guardi la live e qui te raccordi Allora io ho 38 anni Farmi prendere il culo da te Non mi... Ma batte Raffan Vai fuori Decido io Mi sei sul cazzo ok? Si può? Posso decidere io? No Cioè dice che viene qua a pigliarmi per il culo Cioè anche che sono un coglione però Eh Cioè diglielo che sono un coglione Accetto anche quello che vengono a fare Perchè per il contenuto posso anche ancora accettarlo C'è altra una questione di rispetto Però Però se Se fuori dalla porta dici Lo prendo per il culo Pensando che io non lo senta E poi vieni qua a fare il brillante Io ti mando fuori Si Però tipo prima quando siamo venuti io e lui Si C'erano dei ragazzi che hanno detto che venivano da un carriere Che fanno E' quello lì Quello che ho cacciato L'euro che ti ho donato dov'è? Qua tieni Tieni, tieni No, no, che tieni No, no, tieni No, no, tieni Presa Non li voglia i loro sporti soldi Che non tieni Ma che cazzo fa io ti dono l'euro E' bravissimo Ma gli altri Ma l'ho dato io Eh vabbè, lo tengo, dai, lo tengo Eh, ti capisco Ma che vuoi sapere? Se non vuoi che parliamo Ma nel live Sono fuori di testo E' tutto video documentato infatti Salve ingegneri Sto male Ti seguo su Twitch da sempre No, ma no, no, per favore Ciao Ciao C'è, sei già tornato di nuovo Ti ho detto Non gradisco la presenza Ragazzi No, 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 no Ragazzi, no, no Non gradisco la presenza Ragazzi, no, per favore Andate fuori Oh, ma perché? Non mi piace Non mi piace Non mi piace che state qua Ma ti stai rompendo i quelli che fanno altra gente Non mi piace Ma ti stiamo rompendo i quelli che fanno altra gente Si Mi avete dato fastidio Guarda, guarda Ma cosa mi ha detto? Allora, ma non mi interessa spiegare Lo sai cos'è successo? Io non lo so Ma sei anche in live su YouTube Dimmi se io ero presente qui in live Si, anche con te ce l'ho Aspetta, fai l'insertion Devo chiamare Io ho detto qualcosa che... Ciamo al live Oh, adesso... Adesso arriva il tipo 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 Sì, sì Adesso 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 Edizione seguito Ma a parte Raffa? 2.50 Di nuovo, di nuovo, di nuovo Tanto non arriva il tipo Ciao Belli, buonasera Esti gassi! Puoi andare fuori Prendiamo agli infami e alle Di nuovo i baci Pro fin di 17 I buoi genitori hanno antetichi normali? Un bacio live Zacca Allora, se li rivedi, fai subito andare via Non abbiamo fatto Ascolta, non mi fai incassare Te lo dico già Sono il più bravo del mondo Ma il più impassato del mondo Te lo dico già Mi fai bravo Ok, va bene Zacca un bacio live Adesso Adesso, adesso live, 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 live Ehm Ehm Deve arrivare Lukaku Cioè io non li voglio Non voglio chiamarlo Lukaku Però che cazzo Ehm 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 Ehm